Questo scalo siciliano è stato una bella scommessa e ci sta dando una buona risposta. Così l'amministratore delegato di Aeritalia Gaetano Intieri annuncia tra le altre cose in un'intervista esclusiva a Guida Viaggi la nuova rotta che collegherà Comis a Torino, un importante tassello visti i collegamenti già attivi su Bologna, Bergamo, Pisa e Roma che arricchirà l'offerta per lo scalo casmeneo e di conseguenza il traffico da e per la provincia di Ragusa. Una notizia che fa il paio con quella odierna che vede un numero sempre maggiore di turisti scegliere la Sicilia e in particolare la zona orientale come meta per le vacanze, in questo caso il ponte di Ogni Santi. Un incremento a Fermasac che gestisce lo scalo di Catania e quello di Comiso che segna un più 17% rispetto al 2022. Sono 207.000 passeggeri nazionali e 103.000 viaggiatori internazionali a Fermasac infatti che nel periodo tra sabato 28 ottobre e lunedì 6 novembre hanno scelto l'aeroporto di Catania e Comiso come meta di destinazione e partenza per il proprio vaggio durante il ponte del 1 novembre a fare registrare percentuali maggiori di crescita è stato il comparto internazionale con un più 29%. Per la precisione i passeggeri provenienti dall'estero sono stati oltre 100.000 a fronte dei 79.998 del 2022, più 28,8%. Per quanto riguarda invece i passeggeri nazionali il DAPT supera i 200.000 del 2023 con 384.870 dell'anno precedente, in crescita del 12%. Malte, la destinazione preferita con 32 movimenti, erano 26 nel 2022, seguono Tirana, Bucarest, Budapest e Parigi. Perché quel riguarda le destinazioni nazionali la capitale resta la meta favorita con 160 movimenti contro i 140 dello scorso anno. Seguono i due aeroporti di Milano, poi Bologna e Venezia. Ora, occhio al caro voli. A questo proposito è recente il nuovo intervento di Codacons che sottolinea come per il periodo di Natale è previsto un nuovo rialzo delle tariffe. Secondo quanto riportato da Francesco Danasi, segretario nazionale dell'Associazione, un biglietto di sola andata dal nord Italia per la Sicilia costa già oltre i 300 euro, prezzo che sale sopra i 500 euro se si considera anche il volo di ritorno dopo l'epifania.